Ciao a tutti ma questo qui non l'avevo già provato? Sì l'avevo provato l'estate scorsa il modello precedente perché questo qui è il bimax v1 plus. Cosa cambia rispetto al modello dell'anno scorso? Sulla carta cambia molto e non vi dico altro ma ci gira minecraft? Questa qui è la domanda che mi ritrovo molto spesso nei commenti dei video di questi mini computer così l'ho provato vi dico sì ci gira ma ad una qualità pessima quindi non acquistate questo mini computer per giocare solamente a minecraft ma il contenuto della confezione stesso identico del modello precedente come anche la scatola all'interno c'è il supporto per il montaggio sul retro di una tv o monitor in metallo direi ben fatto cavo cdmi e l'alimentatore da 24 watt classico design di un mini computer 12x12 costruzione interamente in plastica con questa parte diciamo questa finitura lucida per tutto il bordo parte anteriore un po' anonima dove nasconde il led di accensione qui sulla sinistra e qua sotto sempre la cosa più interessante lo slot ssdm2 sata così potete andare ad ampliare la memoria di questo mini computer ha uno spessore di 4,2 cm circa compreso di piedini e con un peso di 220 grammi sembra quasi di avere uno smartphone in mano le connettività sono molteplici perché abbiamo la porta buzia qua su un lato così potete sfruttare anche il doppio monitor però dovete collegarlo uno tramite hdmi e uno tramite buzia forellino del reset jack per le cuffie entrata lan come vi dicevo prima hdmi 2 usb poste verticalmente molto vicine questo usb solitamente le utilizzo per i ricevitori della tastiera del mouse dipende di quale accessorio siete in possesso alimentatore e tasto accensione invece qui lateralmente ci sono due port usb 3.0 e micro sd se non volete spendere troppi soldi per ampliare la memoria con un ssd potete inserirci tranquillamente una micro sd sicuramente la spesa è molto minore per quanto riguarda i componenti interni abbiamo un celeron io lo chiamo celeron perché mi dà proprio con l'idea di cpu scarse ma non lo diciamo troppo forte n 33 50 accompagnato da 6 giga di ram lpddr 4 solitamente si vedono sempre 4 giga invece qui ce ne sono 6 2 giga in più assolutamente non fanno male e come spazio di richiviazione 64 giga c'è anche la connettività wifi dual band 2,45 giga l'ho trovata molto stabile come anche il bluetooth 4.2 che ci collego sempre il mio mouse come test e anche come utilizzo all'interno troviamo già windows 10 pro 64 bit già pre attivato e alla prima accensione armatevi di pazienza se gli fate fare tutti gli aggiornamenti più o meno impiegherà una mezz'oretta perché si deve aggiornare completamente il sistema operativo tutti i driver sono già pre installati ed è tutto perfettamente funzionante come va questo mini computer allora rispetto al b1 provato in agosto testato quindi senza guardare o meglio senza confrontare le caratteristiche sulla carta non cambia nulla assolutamente nulla e nemmeno i bisighi di ram in più si fanno sentire a parte quando si utilizza un po chrome con sbarrette schede aperte qualcosina migliora ma direi che non ci sono miglioramenti netti molto probabilmente anche la memoria interna mmc non è così veloce come vedete anche voi dai test e se andate inserirci un ssd e ci installate sopra il sistema operativo molto probabilmente qualcosa andrete a migliorare come vi dicevo la navigazione web è abbastanza buona con chrome 45 schede aperte non ne risente ma se andate se vedete anche voi lo scroll non è sempre così fluido nelle pagine un po più pesanti l'esperienza della navigazione web è un po scattosa però è comunque fruibile è già un mesetto se non qualcosa di più che l'utilizzo come riproduttore multimediale ecco se andate ad utilizzare questo mini computer con mediaset player e play pre in video ecco questi qui sono i soliti contenuti che guardo io e testo su questi mini computer tramite browser web sono inutilizzabili nel senso si riesce a vedere ci sono dei micro lag a meno avere micro lag su una tv a meno non piace assolutamente a meno riproduzione di contenuti multimediali ma c'è una soluzione scaricare i software dedicati direttamente dallo store di microsoft quindi c'è amazon prime video mediaset play infinity netflix caricate le applicazioni ufficiali per sfruttare appieno le potenzialità di questo computer vedete che cambia proprio la visione dal giorno alla notte quindi utilizzatelo solamente con le applicazioni dallo store comunque se volete provare a vostro rischio e pericolo ho provato anche sky go perché questi mini computer almeno nel mio caso io li sfrutto per sky go ecco con il b1 il modello che vi dicevo di qualche mese fa funzionava ma ogni tanto qualche micro lag si notava soprattutto nelle gare sportive formulo 1 moto gp eccetera invece qui la qualità è pessima con qualsiasi canale non riesco a spiegarmi il perché e vi ricordo che ho aggiornato anche i driver della scheda video aggiornato all'ultima versione ma non cambia assolutamente nulla quindi sky go se dovete acquistarlo per sky go non acquistate questo modello sky go non funziona proprio una qualità pessima in cucina continuo utilizzare il mio vecchio minix un mini computer che avevo provato tre anni fa mi sembra e quello lì aveva l'atom se non ricordo male come cpu e con sky go funziona ancora bene secondo me si tratta solamente di un'ottimizzazione software per quanto riguarda la domanda iniziale minecraft si ci gira caricato la versione di prova direttamente dallo store di microsoft al primo avvio impostate la qualità grafica completamente al minimo e arriverete più o meno ad un 25 fps di media diciamo che si riesce a giocare ho provato anche minecraft dungeons mi sembra che si chiami così impostando la qualità proprio al minimo 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 vedete anche voi che non è proprio il massimo si arriverà sui 15 massimo massimo 20 fps direi che questa non è una macchina da gioco anche rocket league qualità minima sembra così giocare come la play 1 e non si superano i 20 massimo 25 fps temperatura ottima non vi ho detto che è completamente fanless 62 65 gradi massimo di temperatura quindi 00 rumore e non calano le prestazioni dopo svariate ore di utilizzo bene arrivando alle conclusioni sono proprio rimasto male per questo sky go non utilizzabile però dai si sa quando leggete la dicitura al modello celeron di una cpu sapete che appartiene alla fascia bassa non è un mini computer da gioco ma trasportabile da ufficio con documenti per il pacchetto office pdf volendo anche un po di retro gaming pensate che questo mini computer lo potete inserire in un cabinato e farci la vostra postazione il vostro angolo gaming retro gaming potrebbe essere un'idea se lo dovete utilizzare solamente per il lato multimediale solo solo per quello vi ricordo che ci sono le far tv stick di amazon oppure anche quella di xiaomi che funziona molto bene e più o meno il prezzo è simile per quanto riguarda il prezzo 135 euro che è lo stesso prezzo del modello provato l'anno scorso anche se in agosto costava 99 euro e c'è anche un modello successivo il b2 che ha un sempre celeron però la versione nuova della serie dei che vanno nettamente meglio ma costerebbe anche 100 euro in più in questo periodo se ci avete fatto caso non si trovano nemmeno tanti portatili si trovano solamente dei portatili di fascia bassa ma sovrappressati con questo periodo di smart working purtroppo non si trovano computer al giusto prezzo quindi direi che non ci sono neanche grosse alternative però per un utilizzo d'ufficio oppure come dicevo da smart working questo qui ci collegate una webcam potete fare le vostre videoconferenze lavorare con i vostri colleghi a distanza senza grosse pretese però sempre con un po di pazienza per qualsiasi altra informazione contattatemi pure e alla prossima su io vi ho in blog